La novità di Francesca Bianchi appena rilasciata sul mercato, finalmente tra le mie mani. Oggi andiamo a parlare di un profumo, di un brand che naturalmente fa sempre molto parlare di sé. C'è sempre tanto scalpore nei confronti di questo brand che ormai è diventato sicuramente una pietra miliare nel mondo della profumeria di nicchia, ma anche nella profumeria in generale. Un brand tutto italiano, di un naso italiano, che lancia un'altra meravigliosa fragranza sul mercato, questa volta dedicata al mondo della nota olfattiva dell'oud. Infatti Voluptus Oud di Francesca Bianchi si va a concentrare proprio su questa particolare materia prima divenuta molto famosa e soprattutto largamente utilizzata, soprattutto negli ultimi anni, nel mondo della profumeria artistica, ma anche di quella commerciale. Una materia prima molto particolare che può vantare ovviamente tantissimi cultori nel mondo della profumeria artistica e anche di quella artigianale. Ovviamente io vi darò le mie personali interpretazioni e sensazioni di questo profumo. Mi raccomando però lasciate sempre un bel like, un commento e godetevi la nuova sigla. Fatemi sapere se vi piace perché ci ho lavorato un pochetto. Bentornati o benvenuti se è la prima volta che siete sul canale. Io sono sempre Kevin e qui parliamo di profumi. Mi raccomando, prima di cominciare a vedere tutto il video, lasciate un bel like e soprattutto iscrivetevi tramite il tasto qui sotto al video perché è gratuito e non pagate niente ragazzi. Mi darete una grande mano per continuare il lavoro di divulgazione personale nei confronti della profumeria in generale. Oggi parliamo di un profumo che, di un brand soprattutto, che fa sempre parlare molto di sé, come già vi ho detto nell'introduzione del video. È un brand che fa sempre tanto hype, ha molti cultori, giustamente perché è un brand di quelli che secondo me è tra più artistici, più articolati, soprattutto anche perché ha tante referenze ormai a disposizione nel suo cassetto profumato. E oggi andiamo a parlare appunto di Voloupe to Sud, una fragranza fresca fresca. Chi segue già Francesca Bianchi sui social aveva forse, come me, qualche sentore che presto sarebbe uscita una nuova fragranza su una materia prima in particolare. Infatti questo è un profumo che fa parte della collezione The Essential, se non mi ricordo male la collezione dovrebbe chiamarsi The Essential, che in particolar modo, attraverso ogni singolo profumo, va a dare una personale interpretazione di una particolare materia prima, secondo ovviamente la visione ed il naso di Francesca Bianchi. Abbiamo avuto Bizantin Amber, che rientra tra i miei preferiti della collezione, poi abbiamo avuto Liberty in Neroli, abbiamo avuto Unspoken Mask e poi Voloupe to Sud, la quarta fragranza di questa collezione. Ovviamente stiamo parlando di un profumo che, secondo me, nonostante sia dichiaratamente una fragranza che si discosta un pochino dall'utilizzo del burro d'iris, perché il brand di Francesca Bianchi è famosissimo soprattutto per l'ampio utilizzo di questo particolare burro d'iris, che dona questa caratteristica particolarmente carnale, sensuale, burrosa per l'appunto, e ovviamente anche talcata e polverosa alle fragranze, con uno stile anche a volte retro, vintage, magari a volte in stile moderno, però sempre con quel caratteristico sentore datato in qualche modo, ma non in senso negativo, quel sentore da classico profumo di una volta. Però, bando alle ciance, parliamo di Voloupe to Sud. In questo caso, come già vi ho detto, stiamo parlando di un profumo che si basa su questa particolare nota olfattiva. Io, tramite questo Debian che mi hanno mandato, anzi, ringrazio il brand per avermi dato l'opportunità di potervene parlare attraverso questo campioncino che è qui dentro. Io, in realtà, già me lo sono spolussato da un po' di tempo, perché lo sto provando da qualche giorno per parlarvene. Ovviamente si tratta di prime impressioni e naturalmente si tratta di impressioni personali che, ovviamente, potrebbero non coincidere con le vostre. Anzi, se avete modo, commentate qui sotto su cosa ne pensate. Allora, questa fragranza vuole essere opulenta, assertiva, edonistica e confortante. Una fragranza che apre con un sentore di agrumi, ma è davvero un flash agrumato, perché troviamo delle note olfattive come il bergamotto e il mandarino, che donano un sentore veramente minimo di freschessa in apertura, che passa, ovviamente, in pochi secondi dopo la vaporizzazione sulla pelle, perché questo profumo ti catapulta quasi nell'immediato al centro di quello che vuole farti sentire Francesca Bianchi attraverso la sua fragranza. Ovvero un Oud lavorato davvero molto bene, non è un Oud stallatico, come alcuni potrebbero definire alcune fragranze che contengono questa nota. È un Oud molto opulento, sicuramente rivisitato, chiaramente, un po' in chiave occidentale, perché non è quel Oud pesante e sporco, e in particolar modo si sente molto la nota anche fruttata e dell'eliotropio, perché nel cuore abbiamo la prugna e l'eliotropio, che sono due elementi che accompagnano per quasi tutta l'evoluzione e la lunghissima durata di questo profumo l'Oud. Ecco, infatti al centro dell'attenzione troviamo sicuramente l'Oud, rivisitato in chiave occidentale, ingentilito da questa prugna, che è un po' è un sentore di prugna secca, quindi molto dolce, però ovviamente non siamo ai limiti del gourmand, perché comunque è sempre un profumo di Francesca Bianchi e quindi c'è molto di più. L'abiname olfattiva, come ben sappiamo, lascia sempre il tempo che trova in ogni fragranza. E infatti l'eliotropio, in questo caso, nonostante non sia stato utilizzato il burro d'iris, lo sostituisce in qualche modo, perché quantomeno sulla mia pelle l'eliotropio assume sì quella caratteristica leggermente floreale, ma c'è anche quel caratteristico odore polveroso, quasi talcato e dolce. Quindi un'ulteriore nota che arrotonda magari l'eccessiva spicolosità che potrebbe assumere l'Oud. L'Oud è che viene ovviamente accompagnato anche dal cuoio e dal vetiver, quindi c'è questa caratteristica sicuramente molto più scura e profonda insieme all'Oud, quindi c'è anche questo sentore abbastanza scuro di sottofondo che permane comunque durante tutta la durata della fragranza, anzi se posso essere sincero un po' si va accentuando man mano che la fragranza entra nel dry down e comunque si asciuga sulla vostra pelle. Quindi ci sono questi sentori cuoiati, ma veramente molto sensuali e intriganti. Poi abbiamo anche ovviamente delle note balsamiche, c'è l'utilizzo del balsamo del Tolù che appunto dona questa caratteristica balsamica che si avverte però dopo qualche ora. Io ho avvertito questo sentore dopo qualche ora dopo la vaporizzazione sulla pelle, quindi diciamo è un profumo che ha un suo DNA, ha una sua bella evoluzione sulla pelle con una durata ovviamente tipica dei Francesca Bianchi. Su questo Francesca ci ha davvero abituati molto bene. Devo essere sincero, trovo anche che siano dei profumi che hanno un rapporto qualità quantità prezzo davvero eccezionale. Stiamo parlando sempre di Exe de Parfum con un'alta concentrazione quindi delle materie prime all'interno venduti nel formato 30 e 100 ml. Il 30 ml costa intorno ai 108 euro, se non ricordo male, mentre il 100 ml costa 235 euro. Ma stiamo parlando di profumi che sono davvero persistenti sulla pelle. In questo caso devo dire la sincera verità mi è piaciuto davvero molto, mantiene quell'imprinting un po' vintage, tipico delle fragranze di Francesca Bianchi. Questo lo devo ammettere, ho letto alcuni pareri rispetto ad altre persone che ovviamente hanno espresso la loro sui nostri gruppi social. Anzi vi invito ad iscrivervi al gruppo Amanti dei profumi di nicchia e commerciali su Facebook, a seguirmi sui vari social Instagram, TikTok e ovviamente anche qui su YouTube perché è davvero gratis e mi darete una grande mano. Quindi molte persone hanno, alcune persone anzi perché è un profumo uscito da poco tempo, hanno espresso un parere abbastanza discordante sul fatto che sia una fragranza diversa dalle solide fragranze di Francesca Bianchi. Però secondo me mantiene sempre quel DNA e quando lo andrete a sentire ci sentirete sicuramente anche voi quell'impronta classica della Bianchi. Profumo comunque veramente buono, seducente, una fragranza a tratti anche molto confortante, calda, perfetta per una stagione autunno-invernale che purtroppo almeno qui da me tarda ad arrivare però con le temperature intorno ai 20 gradi e meno insomma quindi con l'inverno darà sicuramente il meglio di sé. C'è anche una caratteristica animalica ma io onestamente non l'ho particolarmente avvertita sulla mia pelle perché il tutto è talmente ben amalgamato, talmente ben contrastato e lavorato che comunque è difficile magari cogliere alcuni aspetti della fragranza. Poi dipende ovviamente dalla vostra pelle che io comunque vi invito sempre a provare sulla vostra pelle anche e soprattutto questa fragranza. Se avete avuto modo ovviamente già di provare questo profumo fatemelo sapere qui sotto nei commenti, fatemi sapere se vi è piaciuto il video e se vi è dall'introduzione. Noi ci vediamo al prossimo video, spero che vi sia piaciuto e che io sia stato il più chiaro possibile. Se poi avete delle domande, dubbi o perplessità qui sotto nei commenti sono sempre a disposizione. Buona giornata profumata a tutti quanti!